Gentili telespettatori, buona giornata. Quanto sono presenti i capi politici in Parlamento? Questi sono i dati che ho trovato, quindi sono solo su alcuni politici. Secondo Open Police, nei primi sei mesi della legislatura, il senatore Calenda, che non ricopre incarichi di governo, ha per esempio partecipato all'11,2% delle votazioni in Senato. E poi c'è il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che ha partecipato al 10,6% delle votazioni. Il deputato Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, è il leader di partito più presente in Parlamento, avendo partecipato all'83% delle votazioni. Il deputato Giuseppe Conte ed Ellis Line hanno registrato, Conte il 65,2% delle presenze, e Ellis Line, poco più della metà, il 53,7% di partecipazioni alle votazioni. Quanto a Salvini, che ricopre l'incarico di Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha registrato il 14,9% di presenze, mentre Matteo Renzi, il leader di Italia Viva, è il 41,7%. Questi sono tutti i dati che ho potuto visionare e che vi riporto. Arrivederci a tutti e grazie.